Onorevole Grimoldi, qual è il giudizio della Lega Nord su questo decreto ambientale? È un gran pasticcio, c'è dentro tutto il contrario di tutto. Mettono assieme la nosa problematica e anche molto antipatica dei rifiuti di Napoli con l'Expo di Milano. Mettono assieme il problema della Costa Concordia e dello smantellamento di questa nave da crociera con il rilancio e la bonifica dell'area industriale della ciaieria di Piombino e quella di Trieste. Mettono assieme la riforma delle camere di commercio con i problemi dell'acquedotto della Puglia. Mettono insieme le questioni dei terremotati, questioni urgenti e importanti con il problema dei rifiuti di Palermo che non vengono smaltiti. È un pasticcio, c'è dentro di tutto di più e quello che ci fa rabbia è che tutti i nostri emendamenti migliorativi per chiedere che so più fondi per la pedemontana a Lombarda più attenzione per i terremotati sono stati tutti respinti con la scusa che non erano emendamenti omogenei ma in questo decreto di omogeneo purtroppo non c'è assolutamente nulla. In particolare per terremotati e i rifiuti di Napoli che cosa hanno deciso? Vanno avanti con l'emergenza dei rifiuti, cioè negli ultimi 20 anni c'è sempre stata l'emergenza dei rifiuti di Napoli e hanno deciso di prorogare la questione che c'è all'emergenza dei rifiuti di Napoli, nulla di che. Mentre per i terremotati stanno mandando avanti quelli che erano già dei provvedimenti predisposti dal precedente governo per continuare a tutelare e poter intervenire a sostegno delle popolazioni terremotate semplicemente noi avremmo voluto degli interventi un po' più incisivi soprattutto per dare fondi alla piccola piccolissima micro impresa molto diffusa specialmente in Emilia questi emendamenti secondo me condivisibili sono stati tutti respinti però così secondo noi non ci si comporta si entra nella discussione di merito, se mancano le risorse o non si condivide l'emendamento lo si boccia ma non si dice no l'emendamento non lo accettiamo neanche e quindi non si entra neanche di merito e non si discute.